La partita di andata La partita di andata A Bergamo 3-2 Dove c'era tanta intensità E noi proveremo A mettere in difficoltà Sapendo che Che loro Loro hanno tutto Cioè hanno intensità Hanno grandissima qualità In attacco Cioè ti possono fare Goal in vari modi E bisogna fare Partita sicuramente perfetta Ma guarda che Solo una cosa Allievo di Gasperini Cioè è un vanto enorme Cioè loro sono dietro Ma Anni Cioè questa è mia visione Cioè che uno Prende così Atalanta La porta al Champions Poi dico Poi leggo Ma doveva preparare Preparare cose Cioè stiamo parlando Atalanta Champions League Contro Real Madrid L'anno scorso Contro Paris Le Jermaine Ma dove sono altri Cioè Là Quando mi dicono Tu sei allievo O sei indietro a lui Sì Sì Sono indietro ancora E ancora sto imparando Ancora voglio fare le cose Cioè migliorare Penso che siamo completamente Magari diversi Su certe cose come Come Una gestione del gruppo Però su certi Abbiamo caratteri diversi Però Per me è un vanto Non che sono oscurato Un vanto che qualcuno Ancora in questo momento Dice Ma questo È quello che assomiglia Più a Gasperini Adesso sono usciti Da Champions Si diventano Cioè diventano animali In senso positivo Cioè Sanno che Vogliono andare in Champions Di nuovo Che Magari come Juve Contro Cagliari Si presentano con Cioè quella rabbia Che hanno grandi squadre E noi Penso che dobbiamo rispondere Proprio colpo su colpo Cioè Non fare passi indietro E Sarà una battaglia Cioè vediamo Noi secondo me Da due mesi Stiamo meglio Stiamo bene Mi auguro Cioè che Fare una grande partita Sapendo che Loro anche Facendo tutto Cioè alla fine Illigi Zapata Muriel Cioè stiamo parlando Di qualità assoluta E Puoi perdere Cioè perdere anche male Però Cioè noi vogliamo fare Una grande partita Siamo anche Cioè vedo squadra Incazzata Punto giusto Perché sa che Che la partita del Genoa Partita Questa con 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 Sassuolo Sono occasioni sprecate E hanno tanta voglia Tanta fame Di fare una grande prestazione Penso che qualcosina Magari cambieremo C'è tanta gente Che sta bene Anche quelli Altro giorno Che sono entrati Penso che ci hanno dato slancio Devo decidere Il Quinti Perché tutte e tre Adesso in questo momento Cioè Si fanno assist A vicenda Quell'altro fa gol Lasovic Fede Faraoni E qualcosa dietro Anche magari Un pezzo di tre Sto pensando a cambiare C'è un pezzo di tre